Alissa è una ragazza particolare, tormentata da problemi familiari e mentali. Su internet condivide il suo gusto per il macabro, ma la cosa che infine si è dimostrata essere davvero macabra è il suo diario segreto. Spinta da una curiosità morbosa, questa quindicenne ha compiuto un atto raccapricciante. Questa è la storia della Diary Killer. Ciao, belli dezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di tenere al sicuro i vostri diari segreti, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. La storia che voglio raccontarvi oggi fa davvero raggelare il sangue. Si tratta di una vicenda spaventosa, cruda e violenta. Ma per capire cosa ha portato questa ragazza ad essere tristemente conosciuta in tutto il mondo, partiamo dal principio. Prima però ragazzi vi devo augurare buone feste, dato che nei video precedenti mi sono totalmente dimenticato. Spero che abbiate passato delle belle giornate e vi auguro anche un buon inizio del nuovo anno. Il primo anno che passiamo insieme. Che bello. Grazie davvero a tutti per il supporto costante, non smetterò mai di esservene grato. Dette queste cose sdolcinate, iniziamo davvero. La protagonista di questa storia è lei, Alissa Bustamante. Alissa viene al mondo in un contesto molto complicato. Nasce il 28 gennaio 1994 dalla madre Michelle e il padre Cesar. La madre Michelle ha solo 15 anni al momento della nascita di Alissa e lei e Cesar non sono evidentemente pronti per avere un figlio. Si spostano di continuo e hanno svariati problemi tra di loro, per non parlare dei problemi che ognuno di loro ha già singolarmente. Michelle, stando ad una delle fonti che sono riuscito a trovare su internet, ha addirittura dei precedenti penali per reati minori. Parliamo di cose come furto, guida in stato di ebrezza, possesso di sostanze stupefacenti e così via. Ha un pessimo carattere in tutto e per tutto. E non si mostra mai presente per sua figlia. Si potrebbe pensare quindi che Cesar fosse un padre quantomeno migliore di lei. Invece sotto certi aspetti è persino peggio di Michelle. Lui è un alcolizzato, un tossico dipendente ed è stato arrestato per aggressione per ben tre volte. Come potete immaginare, la piccola Alissa passa i suoi primissimi anni di vita, quelli più fondamentali per lo sviluppo psicofisico, in una famiglia dir poco disfunzionale, criminale e distruttiva. Alissa vive insieme ai suoi terribili genitori fino all'età di otto anni. E a causa di questo ambiente inizia a sviluppare un comportamento diciamo particolare. Come dicevo prima appunto, all'età di otto anni viene praticamente strappata via delle mani dei suoi genitori. Per il suo bene viene quindi affidata finalmente ai suoi nonni. Non è chiaro quali nonni fossero, se dalla parte del padre o della madre. E non è nemmeno chiaro se si è trattato di una cosa ufficiale, di un affido vero e proprio. O magari solo di una soluzione presa in famiglia. Fatto sta che Alissa va a vivere effettivamente con questi nonni nel 2002. Loro abitano a Sam Martins nel Missouri. Una cittadina minuscola con circa 1000 abitanti. Meno persone di dove abito io quindi vi assicuro sono davvero poche. Si tratta di un posto molto tranquillo. E molto probabilmente i nonni di Alissa la stanno facendo crescere insieme a loro per cercare di disintossicarla dalla presenza dei suoi genitori. Facendole anche vivere in un contesto familiare più stabile, amorevole e senza i vari problemi con la legge. Ma per quanto gli intenti fossero nobili, Alissa sviluppa fin da subito una certa amarezza. Non le piace affatto quel posto. Non è facile per lei abituarsi ad una vita completamente diversa da quella condotta fino ad allora. In poche parole, ormai per lei è troppo tardi. È ancora una bambina e forse a quell'età non capisce la gravità delle azioni dei suoi genitori. Molto probabilmente le mancano e non riesce proprio a capire perché si è dovuta separare da loro. Ha davvero molta difficoltà ad ambientarsi a Sam Martins, tanto che inizia a sviluppare i primi sintomi di una depressione. E se ci pensate ragazzi è più che comprensibile. Dopo aver vissuto in un contesto malsano con i suoi genitori, quasi fa fatica a vedere le cose buone del mondo. L'affetto dei suoi nonni, purtroppo, non è abbastanza. Alissa si chiude in se stessa e comincia a non parlare con le persone. Si distacca totalmente sia dai coetanei che dai suoi familiari, almeno all'inizio. Non è figlia unica, ha anche altri fratelli che invece, almeno pare, non hanno riscontrato tutte le difficoltà che ha riscontrato Alissa. Lei, la più grande, è quella che sta patendo di più questo drastico cambiamento. E col passare del tempo e dell'età, la sua condizione non migliora affatto. I suoi nonni si sono sostituiti completamente ai suoi genitori, ma non sembrano accorgersi della nebbia dentro il cuore della loro nipotina. Alissa è davvero sempre più chiusa in se stessa, non esterna quasi mai le sue emozioni. A volte si sente inutile, altre volte impotente. Crescendo inizia anche a distinguersi dalle sue coetanee, ma non nel modo a cui pensiamo normalmente. Sam Martins presenta una comunità molto chiusa, dove ovviamente tutti conoscono tutto di tutti. Sono praticamente tutti cristiani praticanti, ed è raro trovare qualcuno di alternativo. Per cui Alissa, diventando un'adolescente, non passa certo inosservata. Assume un look che possiamo definire come goth, per cui veste spesso di nero e si appassiona alle cose più oscure. Vestite truccata così va anche ammessa con regolarità. E fa un certo effetto alla gente di quel posto. Parliamo di persone molto tradizionaliste e vecchio stampo. Appena entra alla Jefferson City High School, ha modo di comprendere anche lei quanto sia diversa, anticonformista. Per fortuna comunque riesce a farsi degli amici. Cioè, non dobbiamo immaginarla come una ragazza sociale. Anzi, esce spesso, studia quel che può e trascorre le sue giornate normalmente. Dall'esterno appare come una ragazzina tutto sommato a posto. Magari ha solo gusti un po' diversi dal resto della comunità, ma a parte questo non sembra avere niente che non vada. Partecipa spesso a diverse attività giovanili, è spiritosa, divertente. Eppure, qualcosa dentro di lei c'è e non è affatto piacevole. Da perfetta teenager degli anni del 2000, si iscrive a molti social di quell'epoca, come MySpace e l'appena nato Facebook. Col passare del tempo si fa anche un profilo Twitter e un canale qui, su YouTube. Ovviamente non sono riuscito a trovarlo perché sarà stato chiuso in modo permanente. Ma viene riportato e confermato che usasse questi social per manifestare tutto il suo lato peggiore. Quando si chiude in se stessa, sfoga tutto ciò che nasconde davanti agli altri, proprio qui, su internet. E col tempo diventa sempre più cupa e curiosa. Non ve l'ho detto prima perché ho voluto presentarvi la Alissa che conoscevano i suoi amici e quei tanei. Ma ora che ci siamo addentrati nella sua storia, devo farlo. Devo parlarvi di quel lato oscuro che nessuno vedeva. Alissa già da qualche anno ha iniziato a godere nel fare e nel farsi del male. Su internet parla spesso del dolore, di come le piaccia e di come ne sia attratta. E addirittura arriva a dichiarare con molta tranquillità di voler togliere la vita a qualcuno. Su suo canale YouTube, per esempio, si dice che caricasse dei video inquietanti dove sfidava i suoi fratelli a compiere azioni pericolose. A confermarlo è uno di questi video sopravvissuti alla cancellazione, dove la si vede vestita con la felpa di Jack Skeletron, intenta a toccare una rete elettrificata e a sfidare i suoi fratellini ad imitarla. Quindi da questo punto in poi inizia a cadere sempre più dentro un vortice da cui non riuscirà mai più ad uscire. All'esterno si comporta quasi in modo scherzoso, ma dentro di lei è da troppi anni che sta crescendo un cumulo di emozioni inespresse. Come un effetto domino, pezzo dopo pezzo, sta cadendo in una reazione a catena che la sta portando sempre di più verso l'oblio. Perché vi dico questo? Beh perché è già da un po' di tempo che Alyssa ha preso l'abitudine di tagliarsi, praticare autoresionismo insomma. La si potrebbe considerare come una ragazza emo, ma più estrema. Mi ricordo ai tempi che molti si vantavano di essere alternativi, finti depressi e con tagli ai polsi. Il problema è che Alyssa non finge per niente, come vi ho detto da anni che si provoca dolori fisici con le sue stesse mani. Si fa tante piccole lesioni sulle mani, sulle braccia, arrivando anche a spegnersi le sigarette addosso. Ha anche fatto vedere ai suoi amici queste sue ferite e il tutto con la sua solita tranquillità. Nel privato Alyssa si sfoga sui social e lo fa anche con scatti fotografici in cui si trucca in modo inquietante e di proposito, scrivendo posti in cui manifesta tutta la sua passione per ciò che è macabro. È una situazione drammatica per la giovane che senza un aiuto adeguato non avrebbe mai potuto riprendersi realmente. E lei questo aiuto non l'avrà mai. Soffre da tanto tempo di depressione e da un po' prende anche degli psicofarmaci, antidepressivi per l'esattezza. Ma questi non bastano per placare la furia crescente dentro di lei. Nel 2007 infatti accade un evento che chiaramente non è altro che un ulteriore campanello d'allarme. In quel periodo sta avendo dei fortissimi sbalzi d'umore. E viene quindi ricoverata in ospedale dopo essersi incisa sul braccio la parola hate, odio. Ha anche tentato di toccarsi la vita assumendo una grande quantità di un farmaco chiamato Tylenol. Viene quindi medicata e curata. Ma i nonni non possono dimenticare questo bruttissimo avvenimento. Forse è solo ora che si rendono finalmente conto in che condizioni riversa Alissa. Perciò provano a parlarle, a creare un dialogo con lei, ma senza mai arrivare ad una vera soluzione. La mandano in centri di ascolto e la fanno parlare con numerosi terapisti. Ma tutto questo non serve a niente. Quando prima vi ho detto che ormai era troppo tardi lo intendevo veramente. Ma comunque le prescrivono un altro farmaco antidepressivo. Il Prozac. Ma anche questo sembra aiutarla davvero poco. Alissa sta peggiorando giorno dopo giorno e ora viene divorata da una crescente e morbosa curiosità. Ma spostiamoci per un momento ad altre persone. Alissa ormai la conosciamo, ma per capire il motivo per cui oggi ne stiamo parlando, devo introdurvi anche un'altra ragazzina. Una ragazzina che praticamente è l'esatto opposto di Alissa, ma che è molto vicina alla sua famiglia. In particolare tanto amica dei suoi fratelli più piccoli. Per questo passa molto tempo in casa loro per giocare insieme. Alissa quindi la conosce molto bene. Questa bambina si chiama Elisabeth Olten ed è più piccola di Alissa di 6 anni. Elisabeth nasce quindi nel 2000 e, al momento dei fatti che stiamo raccontando, ha soli 9 anni. Secondo amici, familiari e vicini, Elisabeth è una bambina fatta di zucchero. Dolcissima e molto tenera. Ama i gatti, i peluche e tutto ciò che è rosa. Sembra che il male non l'abbia mai toccata. È così vivace da sprizzare gioia da tutti i pori. Se messe a confronto, Elisabeth e Alissa sono davvero una all'opposto dell'altra. Una è la vita nella sua forma più pura e innocente. L'altra è la morte. Alissa diventa presto anche portatrice di morte, perché nel 2009 sta pensando di fare il gesto più estremo. È sempre più curiosa. Vuole sapere con tutta se stessa cosa si prova a togliere la vita a qualcuno. Non c'è un reale perché, secondo il suo ragionamento. Nello stesso modo in cui ha provato a togliere la vita a se stessa, vuole provare anche a toglierla a qualcun altro. Ha già molta familiarità con il dolore, ma non sa davvero cosa si prova a procurarlo ad altri e vuole scoprirlo a tutti i costi. Vuole soddisfare questo suo capriccio. Quindi, un venerdì sera, si mette a scavare delle buche in una zona appartata nel bosco vicino a casa. Quelle, secondo lei, sarebbero state le tombe dei suoi fratelli. Loro sono le vittime designate. Il 21 ottobre 2009, per lei, è la data X. Si fissa questa data come il giorno. Il giorno in cui, semplicemente, deve porre fine alle sue macabre curiosità. Alyssa quel giorno va a scuola normalmente ed esce poi con gli amici. Viene però a sapere di una coincidenza particolare. L'amica dei suoi fratellini, la piccola Elizabeth, sarebbe andata a casa sua quel giorno. Alyssa, allora, dopo averlo scoperto, decide rapidamente di cambiare il suo piano e prende di mira proprio lei, Elizabeth Olten. Non sembra esserci un motivo particolare per cui abbia scelto proprio lei, ma secondo me, e questa è la mia personalissima opinione, potrebbe aver scelto Elizabeth come suo bersaglio per una questione di invidia. Cioè, nel senso, la piccola Elizabeth è tanto tenera, dolce e innocente. Tutte cose che Alyssa non è mai stata. O meglio, non è mai potuta essere per via di come è cresciuta. Ecco, forse vedere un'altra bambina essere serena e amata dai suoi genitori ha fatto leva su quel lato macabro e inquietante che viveva in Alyssa. Ma queste, ripeto, sono solo le mie opinioni. Quindi torniamo ai fatti. Alyssa si organizza, di conseguenza. Convince quindi i suoi fratelli ad invitare a casa la loro amica Elizabeth ad ogni costo. La piccola viene presto a sapere di questo invito e non vede l'ora di andarci. Ma ormai è sera e sua madre non è che abbia tutta questa voglia di lasciarla andare da sola. Elizabeth ha paura del buio e sua madre sa quanto le strade siano pericolose a quell'ora. La stessa bambina sa che quello che sta chiedendo a sua madre forse è un pochino troppo. Ma è già andata in quella casa tante, tantissime volte. E a separare le due abitazioni c'è solo un piccolo bosco che ha già percorso migliaia di volte. Erano praticamente vicini di casa, ecco. Quindi la piccola supplica a sua madre per farsi dare questo consenso. Pensate che la sorellina piccola di Alissa che aveva sei anni si è addirittura presentata a casa degli Olten e anche lei ha iniziato letteralmente a supplicare la madre di Elizabeth. Alla fine quindi la donna cede ma ad una condizione. Alle 18 in punto Elizabeth sarebbe dovuta tornare a casa senza se e senza ma. La bambina ovviamente contentissima si avvia verso l'alloggio dei suoi amichetti la casa insomma in cui vive anche Alissa. Arriva lì e inizia a giocare spensierata con i fratellini della quindicenne. Il tempo vola e per Elizabeth arriva presto l'ora di rientrare a casa. Lascia quindi i suoi amichetti alle 18 e un quarto e si dirige verso casa sua. Alissa però in quel momento la vede, la intercetta e le dice che deve assolutamente farle vedere una cosa importante. Elizabeth conosce bene Alissa e non ha motivo per non seguirla. Le due quindi si incamminano in direzione del bosco passeggiano per una decina di minuti e più vanno avanti più si immergono nella fitta distesa di alberi. Questi sono minuti interminabili per Alissa minuti per riflettere per interrogarsi ma mentre il tempo scorre inesorabile le due raggiungono il luogo in cui qualche sera prima la quindicenne aveva scavato delle buche. Elizabeth è tranquilla spensierata e incuriosita da quelle strane cavità nel terreno ma all'improvviso Alissa la afferra e impugnando un coltello da cucina le toglie la vita. Dopo averla seppellita in una di quelle buche torna infine a casa. Mette poi il coltello da cucina nella lavastoviglie e continua la sua serata come se nulla fosse. La dolce Elizabeth che aveva solo nove anni non venne mai più vista viva. E quando la famiglia si rende conto che non stava rientrando a casa inizia a cercarla disperatamente. Ricordate che doveva tornare a casa alle 18 e sua madre sapeva benissimo che non si sarebbe dilungata oltre per nessun motivo a meno che non fosse successo qualcosa di brutto. In preda al panico quindi la donna contatta la polizia e denuncia la sua scomparsa intorno alle 19. Sua madre sa bene che non può essersi allontanata da sola. Per quanto fosse stata euforica quel giorno conosce troppo bene la sua paura del buio capisce al volo che qualcosa di spaventoso deve esserle successo. Forse si è persa forse qualche mania con la rapita. Quello che non sa però è che è già troppo tardi. La polizia si mette subito alla ricerca della bambina e passa anche nell'area in cui Alyssa l'aveva seppellita. Ma in quel momento pensate un po' nessuno si è accorto di nulla. Eppure è davvero molto strano perché molte squadre speciali sono state messe all'opera proprio in quel punto. Pare essere intervenuto persino l'FBI e anche le unità cinofile. Ma nessuno in quel momento scopre che fine ha fatto Elizabeth. Hanno provato a chiamarla sul cellulare e sebbene mostrasse il segnale proprio in quel punto specifico la polizia non trova assolutamente niente. Allora procedono con un altro approccio. Iniziano a concentrarsi molto sulla famiglia di Elizabeth e sui suoi conoscenti. Vengono quindi presto a sapere dell'esistenza di Alyssa e dei suoi fratelli. E da subito capiscono che in quella ragazza c'è qualcosa che non va. Ispezionando la stanza di Alyssa si rendono subito conto di avere a che fare con un'adolescente evidentemente problematica. Ancora non hanno tutte le informazioni che sappiamo noi ma capiscono al volo che in questa ragazza c'è un grosso problema. La sua stanza è tappezzata di scritte fatte con l'inchiostro. Ma alcune di queste scritte sembrano addirittura fatte con del sangue. Sui muri ci sono vari poster e in quella stanza non entra molta luce. Trovano alcune lettere scambiate con suo padre che tanto per cambiare era in prigione e scoprono anche dei disegni piuttosto inquietanti. Disegni che fanno davvero pensare al peggio. Alyssa si dimostra una ragazzina con evidenti problemi ma a darne la conferma agli inquirenti e a tutti quelli che la conoscono è il suo diario personale. Alyssa non scriveva solo sui social ma teneva anche un diario segreto in cui riversava tutti i suoi pensieri. L'ultima annotazione riportata è datata allo stesso giorno della scomparsa di Elizabeth. Ciò che c'è scritto è inequivocabile, impossibile da interpretare in modo differente. Vi riporterò le parole più o meno esatte ma abbiate pazienza se censurerò i termini più forti. La polizia ha trovato una scritta che è stata successivamente cancellata dalla stessa Alyssa così come vedete nell'immagine. La ragazza però non sapeva che grazie alla tecnologia delle forze dell'ordine sarebbero riusciti ad estrapolare ogni singola parola. Questo è quello che ha scritto. Ho appena ucciso qualcuno cazzo l'ho strangolata le ho tagliato la gola e l'ho pugnalata. Ora che è morta non so come sentirmi è stato fantastico. Non appena superi la sensazione del oh mio dio non posso farlo è abbastanza divertente sono un po' nervosa in questo momento. Ok ora devo andare in chiesa lol. Come vi ho detto si tratta di parole inequivocabili e non oso immaginare la reazione dei detective in quel momento. Alyssa in quella nota ha palesemente ammesso il suo delitto. Non passa molto tempo e durante l'interrogatorio la stessa Alyssa conferma le parole scritte in quel diario. È proprio lei a condurre la polizia alla tomba dove giace il corpo della bambina. L'intera cittadina è sconvolta in particolar modo la famiglia della vittima che da questo momento inizia ad odiare profondamente Alyssa. La madre di Elizabeth pensava che sua figlia fosse stata rapita da un maniaco o che magari si fosse persa nel bosco. Non può credere nessuno può credere che in quella cittadina tranquilla una quindicenne sia stata l'artefice di un delitto così efferato. Un delitto senza movente spinto solo da una morbosa curiosità. Possiamo anche vedere le registrazioni dell'interrogatorio di Alyssa. In questi video il suo sguardo e il suo modo di parlare sono completamente in contrasto. vi mostro qualche spezzone. Emma? Oh no! Oh no! Oh no! and then you cut her throat Is that what happened? Yes Why didn't you pick her? I don't know Which it just did Is there something about her? Did you just want to know what it was like to kill someone? Yes, but it was a little bit In tribunale, Alyssa Bustamante ha confessato di aver ucciso Elizabeth Olten Ha detto di averla strangolata prima di tagliare la gola e poi pugnarla al petto La sua allora migliore amica fa anche una rivelazione scioccante Pochi giorni prima del delitto, Alyssa con un tono scherzoso le aveva rivelato di voler uccidere qualcuno Voleva farlo solo per capire che cosa si provasse Era davvero tanto curiosa Sebbene preoccupata, la sua migliore amica pensava stesse solo scherzando Eppure poco dopo accadde la tragedia Gli avvocati della difesa di Alyssa provano a trovare una scusante E fanno appello alla sua infanzia travagliata e ai farmaci antidepressivi che assumeva La difesa spera di applicare una clemenza per qualsiasi sentenza avrebbe potuto subire Ma lei al processo, seppur minorenne, viene trattata come maggiorenne Viene sottoposta al processo come fosse un'adulta È il giudice stesso a decretare questa cosa Quindi poche settimane prima dell'inizio del processo del 2012 Ovvero quello che la vede accusata di omicidio di primo grado Alyssa accetta un patteggiamento per l'accusa minore di omicidio di secondo grado Così avrebbe evitato la pena di morte Dopo giorni di testimonianze molto sentite in tribunale Alissa scoppia a piangere per la prima volta in oltre due anni di procedimenti giudiziari Lo fa mentre l'accusa chiede al giudice di condannarla all'ergastolo Alissa che era rimasta a fissare il pavimento impassibile mentre l'accusa raccontava il suo crimine È crollata quando i suoi nonni si sono arrabbiati e si sono precipitati fuori dall'aula In un certo senso anche loro l'hanno ripudiata Ma non sono stati gli unici ad avere un crollo emotivo in quel momento Dopo l'annuncio del giudice che avrebbe emesso una sentenza il giorno successivo La nonna della vittima ha urlato Spero che Alissa uscirà di prigione lo stesso giorno in cui Elisabeth uscirà dalla tomba Cioè mai Come vedete l'odio riversato le contro non ha paragoni Nessuno si sarebbe mai aspettato che la comunità di San Martins si sarebbe comportata così La notizia fa ovviamente scalpore in tutta la città, in tutto lo stato e in tutti gli Stati Uniti Se la vicenda è stata così diffusa è stato a causa della crudeltà di questa ragazza Una ragazza che dal suo punto di vista ha solo realizzato un capriccio Viene ribattezzata dai media come The Diary Killer Dato che è dal diario che è stata scoperta L'8 febbraio del 2012 Alissa Bustamante ha rilasciato una dichiarazione finale prima che il giudice emettesse la sua sentenza Le sue parole sono state molto criticate ma per rendervi l'intera faccenda più chiara vi riporto quello che ha detto Se potessi dare la mia vita per riportare Elisabeth indietro lo farei Voglio solo dire che mi dispiace per quello che è successo Mi dispiace tanto A rendere un minimo dubbio a queste parole è il comportamento di Alissa durante il proclamo della sua sentenza Anche se ha pianto una volta per il resto è rimasta quasi impassibile E ovviamente ragazzi ognuno reagisce in modo diverso a queste situazioni Per cui anche se per esempio il colpevole rimane impassibile Non è detto che non sia dispiaciuto o pentito Cioè ciò che si prova dentro è molto più profondo rispetto a quello che si vede all'esterno Comunque Alissa è crollata ancora una volta quando il giudice ha emesso la sua sentenza di colpevolezza Forse sperava di cavarsela con quel patteggiamento Invece è stata condannata all'ergastolo con possibilità di libertà condizionale Come parte del patteggiamento potrebbe uscire di prigione sulla parola Ma solo dopo circa 30 anni di reclusione Dopo aver ottenuto un nuovo avvocato nel 2014 Alissa Bustamante critica il sistema dentro cui crede di essere stata gettata Pare che in quel periodo la Corte Suprema degli Stati Uniti Avesse gestito i casi di omicidio di primo grado in un modo particolare A quanto ho capito la Corte ha fatto in modo che quel giudice gestisse il processo di Alissa trattandola come un'adulta Per cui Alissa si sente in qualche modo prese in giro dalla legge Visto che secondo lei ha subito una qualche sorta di ingiustizia Però il giudice ha comunque respinto la richiesta di una nuova supervisione del caso Alissa secondo le parole del giudice ha meritato quella condanna L'ha definita un mostro e pienamente cosciente delle sue azioni Anche se consumava certi farmaci era in pieno possesso delle sue facoltà mentali Alissa in tutto questo non se la passa bene in carcere Se già a casa pativa le sue stesse emozioni in quell'ambiente peggiora ancora di più Cerca spesso di togliersi la vita Tanto che i dipendenti del penitenziario devono sorvegliarla con molta attenzione Ritenendola mentalmente instabile viene seguita a livello psicologico E anche se non c'erano molti dubbi viene fuori qualcosa di particolare Dopo vari esami ad Alissa vengono diagnosticati il disturbo borderline della personalità E uno stato avanzato di depressione Seguito da sentimenti di vuoto, instabilità degli stati d'animo, manifestazioni inappropriate di rabbia E scarso controllo degli impulsi Alissa viene definita come psicologicamente danneggiata E gravemente disturbata emotivamente In verità anche la sua difesa ai tempi aveva giocato questa carta per vincere il processo Ma senza riuscirci Seppur queste condizioni siano reali, Alissa rimane dietro le sbarre Gli ultimi aggiornamenti sul caso riguardano la mamma di Elizabeth Questa donna nel 2015 ha fatto causa contro la struttura che avrebbe dovuto controllare meglio la salute mentale di Alissa Stando alle sue parole quella struttura non ha fatto il suo dovere Dopo quell'incidente del taglio sul braccio del 2007 Alissa è stata seguita da degli specialisti Ma secondo la madre di Elizabeth non hanno approfondito bene la sua psiche Se solo lo avessero fatto forse tutto questo non sarebbe accaduto O almeno una parte di questa storia non sarebbe mai avvenuta Un giudice ha però respinto questa causa Come giustizia alla famiglia della vittima sappiamo che oltre alla galera Alissa dovrà risarcire 5 milioni di dollari più gli interessi fino a quando il debito non sarà saldato Ovviamente li deve risarcire alla famiglia di Elizabeth Quella di oggi è stata una storia che si sarebbe potuta evitare Se solo qualcuno si fosse interessato maggiormente ad Alissa Non la sto affatto giustificando sia ben chiaro Ma è evidente che il problema di tutta questa faccenda nasca a monte Dai primi anni di vita della ragazza Dei suoi genitori per esempio non sappiamo altro Forse sono ancora vivi forse sono morti In un certo senso la ragazza ha seguito le loro orme E questo è sicuramente un peccato Non ho potuto fare a meno poi di notare un certo parallelismo con sua madre Michelle Questa donna l'ha partorita a 15 anni E Alissa a 15 anni ha compiuto il suo delitto Sembra quasi un cerchio che si chiude Un cerchio iniziato male E finito peggio Tutto alla fine mi ha lasciato un po' di amarezza Ma sono curioso di sapere cosa ha lasciato invece a voi Io come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto Ragazzi vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei E niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file Ciao Ciao